Ed è un invito a farsi il portatore di questa speranza, di questa luce straordinaria che con la venuta di Gesù ciascuno di noi ha acquisito un fatto proprio e quindi essere estimo in livello dell'edificio, nella perialità, non nella erogicità, nella perialità. Ecco, con questo pensiero introduttivo, facendo volentieri la parola alla sindaco del Comune Medi, il dottor Alessandro, perché vi accade una parola di saluto. Buonasera a tutti, saluto in finis il nostro caro Archivesco che ci onora della sua presenza su un tema così forte, difficile, delicato, ma che è poi l'essenza del cristiano. Saluto tutti i presenti, i relatori che qualificheranno anche l'interpretazione del testo su cui Giovanni Fai, professore Fai, amico Giovanni, si è cimentato. Siamo amici da 40 anni, ho fatto anche il postino 40 anni fa, quando tra me e la mia fidanzata, tra le moglie, ci scambiamo la proposta, tra l'Università di Pari e la Città. Allora, Giovanni, il secondo testo, nel novembre 2010, abbiamo presentato qui su Facebook, diversamente abile, un libro sulle dinamiche attraverso i social, e un po' più volte, tanto che dopo quel libro io ho fatto il mio profilo Facebook e ho visto anche, come dicevo, le positività e i rischi che mi ha esporsi in prima persona. Tu lo fai sul tuo sito, portando avanti il discorso di veri, di parola di Dio, io lo faccio con un'informazione politico-amministrativa, con i pro e incontro, sia da parte tua che da parte mia, perché messi esimente la faccia, però la discussione è sempre bene. Hai scelto un titolo particolare, perché dice la faccia,